Il governo ha già annunciato il piano delle riaperture. Il 26 aprile i ristoranti potranno riaprire in zona gialla, ma soltanto con i tavoli all'aperto. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano a proposito di questa decisione presa dal governo Draghi. Alcuni questa mattina lavavano già sedie e tavoli. Le pulizie della cucina le hanno già iniziate quasi tutti. Si intravede uno spiraglio di luce per i ristoratori che dal 26 aprile, secondo quanto annunciato dal governo, potranno riaprire in zona gialla sia a pranzo che a cena, ma solo con i tavoli all'aperto e sempre rispettando il coprifuoco delle 22. Una decisione comunque difficile da digerire per i ristoratori che dovranno affidarsi quotidianamente all'incognita del meteo. Ogni giornata di pioggia si trasformerà di conseguenza in un giorno di lavoro perso. Quello che noi avevamo richiesto era una cosa diversa, era quello di aprire, anche perché nelle zone gialle fino adesso si era aperti solo a pranzo, ma si poteva fare sia all'esterno che all'interno. Le temperature in questo periodo non è che sono delle migliori, quindi diventa difficile pensare di riaprire a pranzo o a cena soprattutto con queste temperature e con queste condizioni meteo. Quindi quello che si auspica che ci sia un ripensamento è consentire soprattutto a tutti quei locali che non hanno spazi esterni di poter fare un minimo l'economia per poter sopravvivere almeno fino a quando non arriva la stagione bella. Naturalmente se ci facevano anche tenere qualche tavolo dentro magari con le finestre aperte così eravamo più contenti. Intanto se devono mangiare fuori gli daremo in dotazione una giacca a vento e un paio di pantaloni da sci e l'ombrellino se piove. Se magari allungavano almeno fino alle undici eravamo più contenti. Il resto non so come siamo già di ripartire comunque favorevoli. Dopo poi vediamo, speriamo che poi si accorgono che anche facendo mangiare in una sala da 40 persone, 15 persone dentro, 15 in una sala, 15 in un'altra, eravamo ancora un po' più contenti. Sembra un po' una pesa in giro però sono contento io, io sono contento e voglio vedere un lato che sembra un po' positivo. Ci saranno tanti miei colleghi, io adesso in questo caso sono un po' fortunato, ho l'esterno ma tanti miei colleghi che mi dispiace, chi veramente non può chiedere anche il posto fuori, rimane chiuso, penalizzato e quindi mi dispiace perché io penso che non sia giusto. Vuoi far stare la gente solo fuori? Ok? E quindi dalle dieci a mezzanotte cosa cambia, c'è la gente, anzi per me anche meglio perché alle dieci abbiamo tutto un grande afflusso, tanto la gente vuole uscire, che tutti ci lamentano perché esce la gente, ma la gente non ce la fa più, qui la gente sta impazzendo, quindi naturalmente mettendo un coprifuoco alle dieci vuol dire che tutto concentrato in due ore maledette e la gente giustamente vuole uscire, invece così fino a mezzanotte potevi fare all'inizio le famiglie, dopo verso le nove e mezza dieci le compagnie, i ragazzi giovani e quindi riuscivi a contentare un po' a tutte, non c'era questo afflusso. Come specificato dalle linee guida, i tavolini dovranno comunque essere collocati ad un metro di distanza l'uno dall'altro, anche all'aperto. I clienti dovranno sempre indossare la mascherina in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo.